buona giornata amici da massimo foghetti buona giornata buon inizio settimana riprendiamo la nostra rassegna stampa dopo la pausa domenicale vediamo quali sono le notizie del giorno che vengono pubblicate dal resto del carlino e dal Corriere Adriatico sulle pagine locali oggi si festeggia Santa Matilde di Germania Santa Matilde di Germania la vediamo qui nella iconografia originaria della Sassonia nacque da una famiglia principesca sposò il principe Arrigo che era figlio di Enrico il duca di Sassonia il quale dopo la morte di Corrado re di Germania nel 919 divenne imperatore Matilde si dedicò alle opere di carità quale moglie del sovrano ma poi morto il marito fu costretta a dirimere le liti dei propri figli per la successione alla fine riuscì a mettere pace appunto tra i ragazzi nella sua vita si distinse per la sua umiltà e per le sue opere di carità per questo fu santificata Santa Matilde di Germania ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo vediamo che la primavera sia avvicina e il tempo si mantiene bello su tutto il territorio regionale vediamo che nella cartina abbiamo il sole con qualche nuboletta ma il tempo si mantiene ben solleggiato con un clima però freddo in modo particolare durante la notte e qualche gelata possibile fino a fondo valle i valori massimi si attestano intorno ai 13 gradi i venti ispirano sulle coste da una tendenza media da est sud est mentre sull'interno debole da est ed ora apriamo il giornale dal resto del carlino vediamo nella grande foto notizia che appare nella prima pagina una espressione che scarica un po tutto il nervosismo che c'è stato durante la partita del basket della voelle la voelle emette un grande urlo di salvezza il pesaro batte il brindisi e torna a respirare dopo tante partite che sono andate male però apriamo le pagine sui problemi e della settimana direi anche della giornata la mia piscina foga dal caro bollette si curavano gli anziani ma ora devo chiuderla è una notizia che viene da fano si tratta del grido di protesta di valentina jacovoni che è titolare dell'extra spa di fano pagavo di gas una media di 3.000 euro al mese ora siamo già sopra i 6.000 la vedete come gli importi si siano raddoppiati e poi c'è la luce un signore mi si è messo a piangere perché veniva qui per ragioni di salute infatti per quanto riguarda le piscine in modo particolare quelle private non vengono frequentate soltanto per fare dell'attività sportiva ma anche soprattutto per aspetti riabilitativi curativi per quanto riguarda la salute un rimprovero un'accusa dai politici neanche una telefonata eppure siamo il secondo centro sportivo della provincia dichiarato valentina jacovoni ma vediamo quali sono anche gli altri effetti vediamo mano a mano tutti i settori che vengono colpiti indirettamente ma vengono colpiti però profondamente da quello che sta accadendo in ucraina negli alimentari olio di semi e farina scaffali semi vuoti acquisti razionati due chili ogni cliente c'è stata una specie di psicosi generata da quello che accade appunto della guerra tra est e ovest e c'è un accaparramento di generi alimentari in modo particolare quelli che hanno subito che stanno subendo giorno dopo giorno aumenti considerevoli è stato imposto il limite dopo che in molti supermercati a pesaro è scattato l'accaparramento una commessa dice siamo agli inizi non sappiamo come finirà a soffrirne sono soprattutto le farine gli oli di semi gli scaffali si svuotano rapidamente lasciando interdetti clienti e commessi la farina soprattutto non viene razionata con quattro pacchi due chili un pacco di farina è da mezzo chilo oppure da un chilo però più di quattro pacchi non vengono concessi ai clienti se qualcuno ne compra di più viene invitato a lasciare appunto l'eccesso che ha acquistato e anche i pizzaioli sono in in allarme e ora sono costretto a far pagare anche la maionese ha detto un pizzaiolo si tratta di raul mazzanti titolare della pizzeria zellig di pesaro noi usiamo l'olio di girasole per fare la maionese ha detto io non l'ho mai fatta pagare ma ora mi trovo costretto ad aggiungere un leggero sovrapprezzo al cliente per poter rientrare nelle spese anche quindi delle piccole cose occorre intervenire perché altrimenti non si riesce più a lavorare questa è un po' la tesi che emerge dai vari settori biancani il consigliere regionale del partito democratico dove accogliamo chi arriva ha emesso un interrogativo insieme alla collega daniela vitri che ha sollevato un problema reale arrivano i profughi ma dove li sistemiamo dove li ricoveriamo siamo indietro con l'organizzazione per quanto riguarda gli alloggi a livello nazionale la competenza è stata affidata in primo luogo alle prefetture ma in accordo con i commissari regionali e quindi con i presidenti delle regioni ad oggi la regione Marche ha nominato un comitato di coordinamento dell'emergenza purtroppo però i comuni registrano le prime difficoltà a reperire alloggi e in tempi brevi servono accordi con le strutture ricettive perché poi gli immigrati continuano ad affluire continuano ad arrivare è sempre di più è sempre il numero più ingente ad arrivare in Italia dall'Ucraina sono soprattutto persone anziane donne con bambini e anche minori non accompagnati si tratta di soggetti che hanno da subito bisogno di accedere a diversi servizi sociali e sanitari ma che ad oggi non trovano operatori in grado di capirli proprio di capirli perché non si capisce la lingua e anche la scrittura è difficile perché poi l'alfabeto è diverso dal nostro e in questo articolo a fondo pagina abbiamo un'iniziativa che si è svolta a Fano nella giornata di ieri il vescovo Trasarti è stato a pranzo con i profughi che sono sistemati a Villa San Biagio gestita dall'opera Don Orione attivata una piattaforma web dove segnalare la disponibilità a dare un tetto da chiunque abbia la possibilità un appartamento vuoto un appartamento sfitto alle famiglie in fuga dall'orrore attualmente a Villa San Biagio sono ospitate 18 persone di cui otto bambini tra i sette mesi e i dieci anni e a pranzo ieri c'era anche Don Antonio Ascenzo che è responsabile del Don Orione e la rappresentante della comunità ucraina Fano che ha svolto il ruolo di interprete. Via Guidi il compratore c'è ma il comune stoppa tutto e in questo articolo pubblicato dal resto del Carlino si parla di un caso paradossale che ha per oggetto la casa Francescana che si trova in Via Guidi. È pronta l'offerta per l'acquisto l'amministrazione comunale però rifiuterebbe la sola ristrutturazione dell'edificio. Insorgono dunque Federica Tesini di Italia Nostra e il consigliere comunale del PD Giampiero Bellucci. Che cosa accade? Questa volta si viaggia in senso contrario afferma l'articolista perché a questo punto dopo il no dell'amministrazione alla sola ristrutturazione dell'edificio quindi senza l'abbattimento e la ricostruzione questo complesso che nel cuore della città rischia di finire come il San Domenico nel degrado totale. Il San è una struttura da recuperare ma ancora versa in stato di degrado indicibile ed è un vero peccato perché è un reperto storico, una testimonianza storica e urbanistica di grande valore. A Fano occorre fare presto per realizzare il progetto del Bastione San Gallo. Stimola la Giunta e in questo senso un consigliere comunale di maggioranza. Si tratta di Cora Fattori, di più Europa. Il progetto per assicurare maggiore capienza del Bastione San Gallo, un bastione che fa parte delle mura malattestiane della città però realizzato in maniera più tardi dal Papa, dal governo papalino intorno al XVI secolo, va redatto subito senza perdite di tempo. Ne è convinta appunto la consigliere comunale di più Europa Cora Fattori che vuole evitare ritardi ed il rischio che a gennaio del 2023, quando dovrà essere indetto il nuovo bando di gara per la gestione del Bastione, la struttura non sia utilizzabile. Al momento la struttura è gestita dall'associazione che prende il nome dal Bastione stesso, ovvero Associazione Bastione San Gallo, la quale ha preso in mano la struttura a febbraio del 2018, ma sembra intenzionata a lasciarla prima della scadenza. In questo caso, se questo poi si verifica, la gestione passerebbe al secondo classificato che è l'associazione Work in Progress, però questa la potrà tenere fino al prossimo bando di gara che è nel 2023, quindi che rimescola ancora le carte. Occorre intervenire subito. Un episodio di cronaca, un ciclista sfonda con la testa il lunotto di una Fiat 500. È accaduto ieri, intorno alle 17.30, sulla strada provinciale 92, nella frazione di Bellocchi. È stato un tamponamento. Il ciclista è andato a sbattere con la parte posteriore e ha tamponato l'auto, una 500 che lo precedeva, andando a sbattere con la testa contro il lunotto. È stato ricoverato con il 118 all'ospedale Santa Croce per un violento trauma cranico facciale. Sgomberato un rave party sulle Cesane. Questa volta gli agenti sono stati molto, molto acuti nel capire quello che stava accadendo. Un rave party sulle Cesane, vicino all'ex cave, poco distante dalla Brombolona. È quello che hanno interrotto ieri polizie e carabinieri di Urbino, cercando di sgomberare almeno 150 persone e una cinquantina di vetture. Oltre 100 partecipanti sono stati identificati. Un raduno scoperto per caso e solo grazie all'intuito degli agenti della volante in servizio ieri notti a Urbino, i quali hanno notato un traffico inconsueto appunto di automezzi, di camper che si dirigeva verso le Cesane. Sono quindi intervenuti e hanno sgominato questo raduno prima che esso si consolidasse appunto e poi con gli effetti che di solito accadono in questo genere di iniziative. Oltre 30 uomini delle forze dell'ordine per rimuovere il raduno sono state impegnate fino all'alba. E poi un consuntivo sulla Tirreno Adriatico di sabato scorso, una bellissima gara che ha permesso di valorizzare tutte le bellezze del nostro territorio. Il giorno dopo della gara è tempo di bilanci tra gli amministratori locali, esaltata la bellezza del territorio, una sfida idealmente dedicata a Tadiele Tagliolini, l'ex presidente della provincia che è deceduto in giovane età. In realtà la gara era destinata, era intitolata a un'altra persona, però a questa si è aggiunto appunto l'intitolazione a Tagliolini. Era il giovane ciclista fanese Marco Aragnetti che è stato un po' così ricordato in questa manifestazione oltre a Tagliolini. È stata una giornata bellissima, ha detto il consigliere regionale Giacomo Rossi, ed è andato tutto bene sia in termini organizzativi che di partecipazione del pubblico, arrivato in gran numero anche dalle regioni limitrofe. Ebbene è una manifestazione che in bassa stagione richiama l'attenzione anche sulle bellezze del nostro territorio. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico, lo vediamo sulla pagina di Fano. L'apertura è dedicata ai problemi della marineria che ha deciso di andare in mare, ma solo per due giorni alla settimana. Serve un aiuto diretto dallo Stato. Ormai andare in mare è una rimessa. Pescatori a secco, parla in questo caso Tonino Giardini. Oggi andare in mare con le barche è diventata una rimessa. Non chiediamo uno sconto sul carburante, chiediamo un aiuto a fondo perduto, oppure la cassa integrazione per gli equipaggi che lavorano di meno, oppure sono in sciopero, non lavorano affatto, oppure non possono più lavorare perché appunto il costo di andare in mare è superiore alla resa. Dunque gravi problemi coinvolgono la marineria. Oggi i pescherecci sono andati in mare, domani non lo faranno, ritorneranno mercoledì. Domani c'è una nuova riunione a Roma con il governo e si spera che aggiungano degli aiuti per aiutare questo settore in grave difficoltà. Uno dei settori in difficoltà a causa di quello che sta accadendo tra est e ovest in Ucraina. Sassonia ha tirato lucido grazie a 120 volontari, un'iniziativa che ogni tanto si ripete, grazie alla condivisione di questa sensazione, di questa idealizzazione della pulizia, della tutela dell'ambiente. tante tante persone, le vediamo qui in questa piccola fotografia sparsa in tutta la spiaggia di Sassonia, a raccoglie al plastica tutti gli oggetti che il mare riversa sulla spiaggia oppure qualche maleducato abbandona sulla renile. Al lavoro puliamo Fano, Argonauta e due hands, raccolti 71 chili di rifiuti. Polo della cantieristica, ok della giunta, la concessione prorogata per realizzarlo. Qui si parla di una delibera che ha assunto la giunta fanese per prolungare la possibilità alla società della cantieristica di prolungare i lavori. Sappiamo come quell'area destinata alla cantieristica nel porto di Fano da tanto tempo è stata oggetto di rinnovi per quanto riguarda le concessioni, di rimandi per quanto riguarda i lavori. Ora invece sembra che con l'avvento della Wider di Ancona la situazione diventi più realistica e mentre la concessione in atto sarebbe scaduta il 22 marzo prossimo, allora la giunta cosa ha fatto? L'ha prolungata per consentire alla Wider, dopo che avrà avuto l'assenso della regione Marche, di realizzare il suo progetto, ovvero costruire un grande capannone, un grande cantiere con un'altezza del doppio rispetto a quella autorizzata fino a poco tempo fa, 24 metri invece di 14. Adesso non vi sto qui a raccontare tutte le polemiche che questa autorizzazione ha attivato. Catria, finché c'è neve c'è divertimento, oggi è tutto aperto, dagli impianti alle piste fino al rifugio a 1.400 metri i servizi restano in funzione e anche oggi una bella giornata permetterà a chi ama lo sci di praticare la sua passione. A Terre Roveresche, bolletti rifiuti, non torna l'importo del saldo Tarip, il sindaco di Terre Roveresche e agli utenti. Chiariremo, c'è una protesta dell'opposizione. Che cosa è accaduto? Ebbene, a Terre Roveresche sono sorte delle proteste dopo il recapito delle bollette della Tarip, la Tarip è la tassa sulle rifiuti puntuale, relative al saldo per il 2021. Qualcosa negli importi recapitati, insomma, non quadra e quindi occorre, insomma, adesso riverificare tutti i conti. Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Il sindaco Antonio Sebastianelli, nel corso della diretta su Facebook, nel venerdì, ha invitato gli utenti a telefonare al numero 0721 97 424, interno te, o a presentarsi all'ufficio Tributi del municipio di Orciano, in modo da chiarire un po' tutte le loro rispettive posizioni. C'è qualcosa che non quadra nei conti e quindi i calcoli dovranno essere rifatti. E poi a Monteporzio è stato trovato un nuovo ordigno bellico. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per la messa in sicurezza. L'ordigno è stato ritrovato nella giornata di sabato in via della Fornace, nella frazione appunto di Monteporzio. E questi ordigni bellici si ritrovano ancora oggi a distanza di tanti, tanti anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono proiettili di cannoni, di mitraglie, insomma, sono bombe cadute da aerei, ma soprattutto sono disseminati tantissimi nel territorio ancora inesplosi. Per quanto riguarda Senigallia, troviamo un articolo che si riferisce alla sanità. Pronto soccorso a secco di medici, l'ultima speranza ora è Draghi. L'assessore Saltamartini, mercoledì incontro con il Ministero, si va avanti con ordini di servizio, quindi in maniera forzosa. Solo lo Stato a questo punto può sbloccare la situazione del pronto soccorso. E nel frattempo si va avanti con ordini di servizio. Il caso di Senigallia, rimasta con soli cinque medici oltre al primario, è il più estremo di una situazione che coinvolge un po' tutti i pronto soccorso degli ospedali del territorio. Mercoledì prossimo ci sarà un incontro con il Ministro Speranza, ha detto Filippo Saltamartini, a cui tutte le regioni chiederanno i termini per risolvere il problema della mancanza di personale nel pronto soccorso. Ci vogliono anche degli incentivi per convincere sempre più medici a prestare il loro servizio in questo settore molto delicato e non certo facile. Ed ora diamo un'occhiata ai settori che subiscono le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Uno di questi è il calzaturiero nelle marche. Calzaturiero a rischio, moratoria sui debiti, cassa integrazione e il taglio dell'IVA è quello che si chiede per dare un po' di sollievo al settore. Le scarpe made in marche cercano di rafforzare le rotte su Germania, USA e Francia. Si cercano soprattutto alternative alle vendite da 100 milioni sia in Ucraina che in Russia. Insomma, lì sono due paesi ormai che diventano off-limits, almeno temporaneamente, per quanto riguarda l'economia marchigiana. E poi abbiamo il settore dell'edilizia che soffre materie prime alle stelle, manca la mano d'opera, blocco dei cantieri in vista. Le associazioni Ance e Confapi, processo speculativo nella lunga filiera delle costruzioni. I progetti dei prossimi appalti redatti sui prezzi assai lontani da quelli attuali di mercato. Il mercato e i prezzi sono lievitati tantissimo. Comunque sono lievitati non solo per delle esigenze concettuali, delle esigenze reali, diciamo così, determinate da quello che sta accadendo per la guerra, ma anche di certi interventi speculativi che si approfittano della situazione. E poi il settore della pesca, imbarcazioni in mare per due notti di pesca, ma il futuro è un rebus. Senza contributi dal governo, finite le scorte di gasolio, saremo costretti a fermarci, hanno detto tutti i pescatori delle marche. Mercato delle erbe a Pesaro, tra i banchi, resistono gli ultimi ambulanti, ma è l'incubo degli aumenti. Anche nei mercati cittadini gli aumenti, tutto poi si ricollega al fatto della guerra, destano preoccupazioni e destano difficoltà. Viviamo nell'incertezza, hanno dichiarato gli ambulanti. Il caro carburante per noi dettaglianti è una mazzata. San Domenico è un rebus, il destino delle bancarelle. Il palazzo deve essere ristrutturato, ma i tempi rimangano incerti. E nel frattempo, in cui si effettueranno i lavori, che fine faranno le bancarelle? Un punto interrogativo. Strada del Montefeltro, quella che va verso Urbino da Pesaro, è una trappola mortale. Qui purtroppo si è verificato l'ennesimo incidente mortale, quello che ha procurato la morte di Marco Ragnetti. Lo vediamo qui nella foto, una delle ultime foto che sono state fotografate di questo ragazzo di 16 anni, uno studente che stava recandosi a scuola. Ebbene, oggi a questo studente sarà dato l'addio in un'area all'aperto, quella del Parco dei Tigli, alle 14.30. In memoria di Marco, d'accordo con la famiglia, le offerte raccolte saranno devolute alla Caritas e all'Unicef per aiutare i giovani profughi della Ucraina. Una strada troppo pericolosa, ora si intervenga subito. I residenti della zona di Borgo Santa Maria tornano a chiedere iniziative varie di messa in sicurezza della strada del Montefeltro, una strada molto molto trafficata. A Villa Fastigi basta con gli agenti aggrediti. Ogni tanto se ne vede uno che sopporta le conseguenze di botte, di reazioni da parte dei detenuti. Quattro richieste alla Ministra Cartabia dal parlamentare Paolini, che presenterà una interrogazione e annuncia anche una proposta di legge. Si tratta di Paolini della Lega, che interviene, Luca Rodolfo Paolini, che interviene in questo settore. Lui stesso ha una predilezione per questo settore, che segue in maniera molto molto attenta. Ancora sul Corriere Adriatico, a Vallefoglia, fibra, prima riparate la strada. È un articolo che riguarda Montellabate. Autorizzazione per la banda ultralarga. Il Comune di Montellabate replica l'assessore regionale Carloni. E poi vediamo l'articolo su Urbino. Risonanza magnetica in ritardo, Salta Martini. Non è possibile una cosa del genere. Possibile che all'ospedale di Urbino manchi la risonanza magnetica. Sono intollerante. Non sono in discussione le persone. Ma un sistema, dice Salta Martini. Non si può immaginare che a Salesi ci sia una risonanza magnetica di 24 anni fa. E non si può immaginare che Urbino, che con il suo ospedale è un punto centrale per tutto il Montefeltro, non abbia una risonanza magnetica. E siamo in conclusione. Voglio soltanto segnalarvi le notizie di sport per quanto riguarda la Vis Pesaro. Adesso c'è spazio soltanto per i sogni. Con la salvezza ormai in tasca, i biancorossi possono puntare tutto sul play-off. Mentre per il Fano Calcio, punito dall'ex, il notaresco ha vinto per 1-0 sui Granata. Ebbene, i play-out si avvicinano. È uno spettro che incombe sulla squadra fanese. Esposito sfrutta un assist e infila Olivieri. Il risultato 1-0 a scapito del Fano Calcio. Ed era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. E per le notizie del giorno, a occhio alla notizia delle 20.30 su Fano TV. Mi raccomando, cambia canale non più 17 da domani, canale 19. E questo è tutto. A risentirci. Grazie. 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 Grazie.